eccomi 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 buonasera amici amiche rossoneri e vai ragazzuoli e ragazzuole belle allora lo dico subito non sto bene lo sapete forse ieri non so se l'avete sentito con attenzione ma ho la schiena distrutta sto facendo fatica a stare in piedi lo faccio perché ho una responsabilità nei vostri confronti non la voglio mettere giù dura voi direste chi se ne frega lo dico anch'io chi se ne frega però non sto bene ho la schiena a pezzi praticamente sto andando di occhi a manetta anche qui chi se ne frega adesso mi farò fare un massaggio improvvisato da qualcuno e cosa volete che vi dica sono qui in piedi mezzo rottamato tutto curvato in avanti non riesco neanche a stare dritto vabbè lasciamo perdere partiamo razzo partiamo razzo perché ci sono tante notizie da dire allora ragazzi prima partiamo di quello che ruota intorno al nostro milan praticamente lo sapete tutti forse se non lo sapete ve lo spiego corto al portiere il grande portiere grande portiere bisogna dire la verità del real madrid ha rotto oggi il legamenti crociati del ginocchio sinistro questo vuol dire che real madrid è sul mercato per prendere un nuovo portiere e attenzione mi ricollego un'altra notizia di oggi vera che il buyer di monaco sta visionando il nostro mike magnan per cui qua ci sono due indizi che dovrebbero farci rizzare le antenne farci un po preoccupare perché ragazzi maldini massara avevano valutato il cartellino di mike magnan per cento milioni di euro informatevi se non mi credete e si viene a sapere oggi ho cercato di scavare di avere informazione ulteriore su questa notizia è vero mike magnan è stato anche da furlani valutato cento milioni di euro ma questo non vuol dire che furlani ha sentito il buyer di monaco real madrid non sto dicendo questo vi sto dicendo che io invece ho sentito chi dovevo sentire per capire se è vera questa valutazione sì mike magnan è valutato da un mila cento milioni di euro per cui ragazzi io ve lo dico siccome il real madrid è sul mercato per corto a perché corto a non ritornerà il real madrid prima di marzo marzo aprile addirittura si si vocifera crociato è una brutta bestia tutti i legamenti rotti è una brutta bestia ragazzi il real madrid deve prendere un portiere del real madrid chi c'è di portiere forti in questo momento al mondo allora onana non è consacrato ma onana appena iniziato la sua carriera mike magnan ha già fatto vedere di che pasta è e che tre primi tre al mondo uno di questi primi tre è la corto a ragazzi la matematica non è un'opinione non è un'opinione io ve lo dico io vi voglio avvisare io vi voglio avvisare starà a nostra proprietà decidere se vendersi o no ma se il real madrid domani o tra una settimana dice bene signori questi sono 100 milioni di euro più bonus per mike magnan cosa facciamo ragazzi perché poi c'è anche il bayern di monaco sommer all'inter che va bene questo è il bayern di monaco sono felici di averlo sbolognato all'inter che sia chiaro insomma è una situazione si sta instaurando una situazione di calciomercato pazzesca è vero anche che devo anche qui ricollegarmi alla saudi arabi pro league lega di dell'arabbia saudita che adesso tutti ne parlano ma lo dico ma non è che io li voglio boicottare perché sono uno stronzo che li devo boicottare a me non me ne frega niente ma ve lo dico sinceramente ma proprio fuori dei denti non me ne frega niente proprio di sto campionato cioè il fatto che sia andato verrà che andrà a verrati che non è ancora andato fatto che sia lì già mininko vissavic tatarasano cristiano ronaldo e benzema ma non me ne frega niente ragazzi ma non me ne frega niente cioè è un campionato che non ha ancora una storia ma la farà negli anni gli auguro il meglio all'arabbia saudita di creare un grande campionato veramente attrattivo però io prima di tutto non ci andrò mai là a vedere una partita faccio già fatica adesso vedere una partita del milano all'anno allo stadio per motivi personali di lavoro qui da me qui alle porte di milano ma figuratevi se mi interesso poi di andare a vedere non solo fisicamente ma anche di andare a vedere un campionato che non ha quel fascino quell'attrattiva che deve costruire con gli anni ci vorranno minimo dieci anni prima che questi qua faranno vedere un qualcosa che ci attraga ma a me sinceramente che la 7 e sport italia abbiano preso i diritti di questi qua non me ne frega niente però è anche vero quello che dice amministratore delegato oggi ha detto una cosa importante noi stiamo facendo quello che l'europa ha fatto nel calcio che conta soldoni pesanti vi andare ma questa è la dimostrazione di quello che vi sto dicendo adesso ragazzi qui ci sono difensori che vengono venduti in europa tra i top cab quelli che lo possono spendere di 100 milioni di euro alla volta henry kane sta andando al buyer di monaco per 100 milioni di euro più bonus scusate questi non sono prezzi da rabbia saudita secondo voi il buyer di monaco tira fuori paga il tottenham 100 milioni di euro più bonus questa è una cosa che comunque guardate io ve lo dico faremo anche noi in futuro quando avremo la capacità di fuoco di farvelo e poi non stupitevi non scandalizzatevi quando il minas spenderà 100 milioni di euro per un giocatore perché vedrete che succederà cioè ha ragione anche l'amministratore delegato della campionato saudita in arabia saudita stiamo facendo quello che in europa è sempre stato fatto hanno ragione però da qui al dire che il campionato sarà attrattivo sarà affascinante sarà bellissimo sarà più bello del mondo ci vogliono 10 anni punto è a capo per cui detto ciò poi soprattutto voglio voglio vedere cosa farà la uefa per la champions league perché dovrà farla diventare più ricca perché io fossi la uefa a questo punto devo iniziarmi a parare il fondo schiena da qualcuno che sta arrivando e allora cosa devo fare devo dare più soldini per la champions league questo deve essere ormai palese caro kefferin sveglia kefferin sveglia presidente kefferin perché lei mi sembra che sveglio su quello che vuole sul resto passiamo a un altro argomento cessi il cessi blocca tutto tra lo scambio lukaku e vlaovic della juventus perché cessi dovrebbe pagare una cifra intorno vorrebbe pagare una cifra intorno a 25 milioni di euro di differenza per vlaovic mentre juventus ne chiede 35 c'è uno youtuber che mi dispiace coinvolgerlo sempre ma per me tante volte sbaglia ad avventurarsi in queste notizie ma non capisco perché lui si avventura ma forse perché vuole la visibilità non lo so forse perché vuole dare un'illusione notizia ma fa anche bene ma carlo per le gatti in questo caso sbaglia per la seconda volta in un mese e mezzo ha sbagliato in una situazione e ve l'avevo spiegato perché adesso sbaglia sbaglia più che altro perché da un'idea sbagliata a voi per l'amor di dio lui libero di fare quello che vuole io non sono uno di quegli stronzi che accusano e ingiuriano in malo modo invidio gli altri pensando di essere quelli che vogliono fare i saputoni o che la scampano no io non sono né maleducato né saputone né penso di scamparla perché ognuno delle proprie parole si prende le proprie responsabilità però devo dire che in questo caso per l'ennesima volta carlo per le gatti sta sbagliando carlo se vedi il mio video perché so che lo vedi il mio video perché qualcuno mi ha dato una prova che tu vedi i miei video per l'amor di dio carlo ma non da non dare queste sparate ai tifosi ma cosa dici che lucacco viene al milan da ma basta ma ma lucacco allora come stipendio percepisce 10 milioni di euro che prima erano pagati in parte dall'inter in parte da accessi lucacco se dovesse venire al milan comunque in ogni caso se non vuole 10 milioni di euro ne vuole sette più bonus cioè parliamoci chiaro non è in questo momento nella politica della nostra proprietà affrontare una spesa del genere in più che il cesi ti mette comunque sicuramente un obbligo di riscatto se fa ancora il prestito perché questi non lo vogliono più vedere ma basta perché oggi è uscito fuori per le gatti con l'editoriale se lucacco venisse al milan per una frazione secondo ci ho pensato anch'io poi se dovesse succedere cosa ci dobbiamo fare noi non è che ci possiamo genuflettere di disperazione se se dovesse arrivare bene vuol dire che allora red bull impazzito vuole tirare fuori questi soldi però non è non è ipotizzabile non è realizzabile per cui state calmi lo dico perché alcuni di voi mi hanno scritto lucacco potrebbe venire al milan non non sei solo tu che me l'hai scritto caro amico me l'hanno scritto un po di voi però ragazzi lo so perché me l'avete scritto perché l'avete visto da carlo pedegatti questa verità non è realizzabile è tutta una balla e via andare ad ora è tutta solo una balla poi se succederà vuol dire che red bull cardinale letteralmente impazzito nel senso che vuol dare a fondo le spese che vi devo dire io è lui che ci ammanno i soldi non è che non è che posso decidere io ragazzi allora ragazzi parliamo noi invece di cose un attimino più reali domani musà viene presentato ufficialmente milanello sono contentissimo grande yunus musà grandissimo giocatore calabria recuperato dall'infortunio che ha avuto negli stati uniti balloture ha l'accordo col verde brema per andare in bundesliga a giocare ma deve trovare il verde brema l'accordo con il mina lorenzo colombo allora il capitolo lorenzo colombo è un po duplice duplice perché potrebbe rimanere al milan se orighi non viene ceduto e se il milan pensa di dover tenere colombo perché non ha altre alternative visto che non ci sono state altre uscite ma se per colombo c'è veramente la realizzazione della pista di diventare attaccante in presto solo in prestito e poi ritorna per il cagliari di del del grandissimo ranieri praticamente allora cosa vuol dire colombo via e orighi forse in procinto di andarsene il milan comprerà comprerà lo ripeto comprerà il cartellino di un nuovo attaccante però orighi diventato un mattone diventato un problema orighi stai attento perché tu veramente rischi grosso di non giocare di non trovare più una squadra in futuro come ancora oggi sta facendo baccaio co perché baccaio co sembrava che ha trovato una squadra invece una mazza orighi occhio perché rimani disoccupato ti conviene andare in arabia saudita orighi ma che cavolo vuole rimanere in europa a fare ma non vedi che stanno tutti andando per soldoni e tu chi sei per non prendere i soldoni dei sauditi visto che qua non ti vuole nessuno e parliamoci chiaro e qui non sto mancando di rispetto proprio una mazza di nessuno sto dicendo la verità ragazzi adesso parliamo di quello che sono i tre protagonisti del video messias crunic e marco gruic allora partiamo da messias allora da una parte c'è il chi dice è tutto fatto la gazzetta dello sport sport media se quant'altro dall'altra sky sport ha sposato un'altra parrocchia bene io vi dico che comunque per messias al genoa è già tutto fatto da quello che ho capito è già tutto fatto sky sport esposa la parrocchia della serie non c'è ancora nessuna offerta reale a livello cioè sconcretizzazione reale della cessione di messias se in prestito definitivamente invece gazzetta e sport media se dicono che comunque già tutto fatto tutto fatto due milioni e mezzo di euro con un contratto di tre anni al genoa messias lo voglio ricordare a 32 anni messias grazie di tutto un applauso a te te lo faccio perché ci hai dato una mano per vincere lo scudetto 32 anni lo ripeto messias è arrivato nel 2021 è stato 2021 al milan in prestito poi è stato riscattato 4 milioni e mezzo di euro per cui con 2 milioni di euro più bonus siamo praticamente in perfetto pregio per non fare minus valenza sul discorso invece crunic e il milan sembra che stia ritirando dal mercato letteralmente crunic perché sta facendo una nuova proposta di contratto crunic con prolungamento molto probabilmente da un milione e duecentomila euro crunic salta due milioni e mezzo di euro probabilmente con un bonus visto che fenerbaccio offriva tre e mezzo crunic 30 anni 7 ottobre e niente ragazzi questo è quanto tanti di voi saranno scontenti piore lo vede come un centrocampista che dà ordine al nostro centrocampo non è un player non è un player che fa gioco divisione non lo è tanto è vero che il milan rilancia per un altro centrocampista visto considerato che nonostante benasser si stia allenando stia facendo bene fisioterapia ora che ritorna praticamente la primavera prossima e andiamo su questo marco gruic per me è un depistaggio ve lo dico è un centrocampista del porto lui nazionale serbo gruic arriva dal liverpool un po di anni fa un ex liverpool gruic ha 27 anni proprio per questo per me fuori dai parametri di redbird insomma il porto chiede dei bei soldoni questo è un depistaggio ma in realtà lo ripeto per l'esima volta noi siamo fortemente su nico dominguez del bologna al centrocampista del bologna che con quello sì che si fa un salto di qualità in avanti insomma a 25 anni è sul limite dell'età prestabilità del redbird per cui questo è quanto ragazzi per questo vedremo come andranno finire le cose forza mina sempre comunque ovunque pregate per me per la mia schiena adesso mi imbottisco di occhi massaggio doccia oltracalda un dolore della madonna sto facendo una fatica a stare in piedi che metta basta però sono una vecchia roccia come tale e come tale vecchia roccia vecchio cuore rosso nero io non mi abbatto mai ciao